Sì, sì signor Ministro, sì, sono appena rivolto, sì, non appena avrò l'accordo energetico la metto al corrente, eh, energia, corrente, è una cagata, va bene, buon Natale Ministro. Ma ti rompono le scatole anche in vacanza questi? Guarda, l'unica cosa che non ho mai in vacanza qui sono la rottura di Maroni e gli amministratori delegati. Oddio, Udo! Ai, ai... Ai, ai, ai... Sei sminchato tutto, signora. Manaccia! Ai, ai, ai... Che male, che male... Il vaccino. Cioè, viene... Oh, ma che cazzo fa? Oh, tirami su, che mi fa male! Ma guardate questo qua! Ai, ai, ai... Piano! Grazie.